le barrette che mi hai dato a te a quelli la i miei piedi eh Zuccarelli ci sei quasi riuscito bravissima una bella operazione sera del monte 200 metri bravissimo caldo è stato speronato già fatto chiudi gli occhi chiudi gli occhi fa le cose eh taglia tutto io non ho sospensioni eh bravissimo bravi ragazzi discesa discesa picco su fabbrica culone il già fatto team sta per arrivare al un terzo del giro del giro della giornata piano raga sennò non vi inquadro più sennò non vi becco eh stai così stai così caldo stai così stai così stai così caldo stai così bellissimo eh di più bellissimo spettacolo bellissimo bellissimo si si vai vi ammucchiate lì un po' dopo partiamo tutti insieme io sto dietro ho 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 ho